Super Shop, su Super! Callie, vorrei chiederti cosa pensi di questo fenomeno del web è una ragazza, una giovane artista che nei suoi mashup unisce la musica classica con la musica pop è conosciuta da tutti come Mica635 pensi che sia una ragazza di rispetto verso la musica classica? Ma cosa c'entra adesso? Sì, no, no, mica i tuoi occhi, io non credo che... Rispondi Carlo, per favore Credo che la musica sia stupenda e per questo dovrebbe essere libera in ogni suo corpo e che se un artista riesce ad esprimersi attraverso uno o più strini, dovrebbe poterlo fare Non credo siamo affutto dannosi il mashup di Mica635, al contrario penso che sarebbe molto meglio una sostenibile artistica nel coraggio di fare una musica Per il nostro coraggio di Mica635, al contrario vedo... vedo... ... ... ... ... Grazie.